Entro il 3 novembre 2021 il promotore di giustizia provvede al deposito degli atti indicati nella parte emotiva e in particolare delle audio e o video registrazioni di Monsignor Alberto Perlaschi e degli atti dichiaranti per i quali si è stata adottata tale forma di documentazione degli atti. Il presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone dà lettura della decisione sulle istanze avanzate dagli avvocati di 6 dei 10 imputati. La terza udienza del processo che ruota attorno alla vicenda del palazzo di Sloan Avenue a Londra si chiude in poco più di 20 minuti disponendo il deposito della documentazione entro il 3 novembre, tra cui le registrazioni audio e video delle deposizioni di Monsignor Alberto Perlaschi, ex braccio destro del Cardinale Beccio ed ora principale accusatore e testimone chiave. In sostanza sono state accolte le istanze degli avvocati e degli imputati che lamentavano carenze nella fase istruttoria per consentire l'esercizio della difesa a tutte le parti coinvolte. Annullati rinvia giudizio di Fabrizio Tirabassi, dipendente del reparto amministrativo della Segreteria di Stato e di altre importanti figure coinvolte nell'acquisto del palazzo londinese, tra cui i finanzieri Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi e Monsignor Mauro Carlino, in passato segretario del Cardinale Beccio. Per quest'ultimo, quindi, si dovrà procedere ad un nuovo interrogatorio relativamente a due capi di imputazione, vale a dire i reati di peculato e di subornazione, cioè il tentativo di far ritrattare Perlasca. Una vicenda dai contorni opachi su cui si è appuntata l'attenzione del mondo anche per la clamorosa decisione di Papa Francesco di licenziare il 24 settembre 2020 Angelo Beccio, allora prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, privandolo dei diritti connessi al Cardinalato. Risale allo scorso giovedì santo la visita di Bergoglio nella residenza di Beccio, con il quale ha celebrato la messa in cena domini, letta da alcuni come una riabilitazione.